Per la voce delle associazioni vi proponiamo un'intervista con Marco Bruni, presidente provinciale della Federcaccia di Brescia, con il quale si sono affrontati alcuni temi di attualità venatoria, a cominciare dalla questione dei capanni sui monti di Serle, messi in discussione dalle associazioni animale-ambientaliste. Sì, la questione dell'alto piano di Carriadeghe è l'ultima di una serie purtroppo non breve, alcune questioni sono finite in modo positivo, come i capanni del lago di Seo davanti alle torbiere che alla fine sono potuti rimanere dopo aver fatto le valutazioni di impatto ambientali. Poi adesso c'è una serie di questioni intorno ai capanni della riserva integrale qui di Vobarno e poi dopo c'è questa operazione fatta dal gruppo di azione giuridica della LAC, mi sembra che si chiami, in cui hanno fatto tutta una serie di rilievi a parecchi capanni di Serle intorno all'alto piano di Carriadeghe che hanno poi dopo mandato alla magistratura, quindi è stato fatto un vero e proprio esposto alla magistratura, quindi con una segnalazione alla procura e vengono contestate alcune questioni di carattere urbanistico, ma sostanzialmente la riserva di Carriadeghe è un SIC, un sito di interesse comunitario, sono degli istituti voluti dalla Comunità Europea per la conservazione della flora. Evidente che, voglio dire, ai capanni non gli si può addebitare nulla contro la flora, perché voglio dire, oggi gli unici habitat perfettamente conservati ai nostri montagni sono i capanni, quindi credo che su quell'argomento contestano la gettata in cemento, il fusto, il tombino... Tutte le occasioni sono buone per mettere il bastone fra le ruote. Vedi Beppe, quello che i cacciatori non hanno ancora capito è che chi è contro la caccia oggi sta cercando in ogni modo di farci passare la passione. Si sono attrezzati con gruppi di azione giuridica, con persone che pagano 365 giorni all'anno per far passare tutti i capanni a provincia e Brescia, che vi ricordo sono pubblicati con nome e cognome, coordinate GPS, e quindi valutare uno per uno le distanze che ci sono tra abitati, case, ricoveri, strade, non strade, proprio per torturare persone che hanno la passione della caccia. D'altra parte la Lega per l'abolizione della caccia non fa che cercare di far passare, fa smettere i cacciatori, perché sai, delle volte non è che uno perché gli tolgono il suo capanno dice va bene faccio un altro, magari sta andando in un capanno che è della sua famiglia da decenni, che andava magari prima al padre o al nonno, uno anche perché cambia capanno va da un'altra parte, lo cambia, no, resto in quello se non posso più andarci molla. Loro lo sanno e insistono, è per quello che noi, la nostra associazione, si sta adeguando a queste problematiche. C'è un altro problema che riguarda la polizia provinciale di Brescia, con lo smantellamento della provincia non si sa che fine faranno gli addetti alla sorveglianza etico-venatoria, c'è la paura, il timore da parte di tanti cacciatori che possano subentrare le guardie volontarie di WWF piuttosto che di Iampana. Allora, il problema della smobilitazione del nucleo etico-venatorio è un problema per i cacciatori bresciani. Secondo Federcaccia è una priorità la conservazione di queste professionalità, perché oggi il fatto che non ci siano più i guardie a caccia dalla provincia, chiamiamoli con il loro nome, non andiamo a inventarci questa cosa, è un problema perché sono professionalità riconosciute, sono professionalità riconosciute dal territorio stesso, quindi dai cacciatori, dalla popolazione, conoscono l'ambiente a menadito, sanno dove andare, conoscono le abitudini, conoscono le tradizioni, conoscono i cacciatori e quindi si sanno muovere molto bene sul territorio. Oggi smobilitarli e toglierli è un errore gravissimo, cioè aver tolto queste sedi, io faccio l'esempio banale di Marcheno, ci sono dei guardie a caccia residenti a Coglio, secondo l'amministrazione provinciale d'Accoglio devono andare a Vestone, timbrare e ritornare a Coglio a fare il loro servizio. Metà giornata se ne va. Metà giornata se ne va quando a Brozzo di Marcheno c'è la casa cantoniera dove i cantonieri timbrano per andare a lavorare, mandali a Brozzo, anzi non capisco perché non ci siano andati fino adesso e abbiamo mantenuto un'altra sede. Quindi voglio dire, c'è proprio in ballo una guerra tra il centro-sinistra che amministra la provincia e il centro-destra che amministra la regione sulla pelle dei cacciatori e permettimi anche su quella della comunità entea, che non è che la fauna selvatica interessa solo i cacciatori, cioè è un patrimonio della collettività. Articolo 1 della 157, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, probabilmente al consigliere delegato Peli questa cosa andrebbe spiegata perché lui non può fregarsene di questo argomento perché è ancora una sua competenza e quindi queste pseudo-razionalizzazioni andrebbero fatte forse con un criterio migliore. Un'ultima cosa, Marco, per quanto riguarda il dialogo che voi avete già portato avanti da tempo con l'anno migratoristi e che vi ha portato ad avere obiettivi comuni come l'antenna Bruxelles. Sta proseguendo e quali sono altri argomenti in comune? Noi stiamo andando avanti, abbiamo sicuramente per l'anno prossimo intenzione di organizzare dei corsi assieme di formazione per i cacciatori, ma probabilmente anche di fare un'iniziativa molto importante ancora da non divulgare però che farà scalpore anche questa con l'anno noi stiamo lavorando bene abbiamo gli stessi obiettivi lo stesso modo di operare la stessa sensibilità credo che l'unità nel caso delle nostre due associazioni ci sia negli intenti poi dopo formalmente ognuno può avere la sua casa ma lavorare insieme per un unico obiettivo noi lo stiamo facendo senza tante polemiche senza fare anche tanta pubblicità magari però noi veramente adesso questa nuova iniziativa che ti dirò appena l'avremo sottoscritta è veramente importante e deve essere proprio il nuovo modo di operare nei confronti della caccia oggi ci sono davvero tante iniziative che anche l'abolizione delle province mette sul terreno quindi i censimenti il contenimento della fauna selvatica il contenimento dei nocivi i censimenti sul territorio i corsi la formazione che fino ad oggi ha fatto la provincia chi la farà domani ecco io credo che se alcune associazioni come l'ANU e la Federcace si mettessero assieme e si organizzassero per gestire queste cose sarebbe molto importante anche per non avere poi i soldi che finiscono invece a Lampana di turno al WWF di turno che sono già lì già organizzati pronti a metterci le grinfie addosso faccio l'esempio banale delle nutri vengono stanziati dei soldi dalla regione gli unici che abbattono le nutri sono i cacciatori coordinati alla provincia i cacciatori non ho capito questi soldi dove vanno a finire da Bruxelles invece c'è qualche riscontro dopo che avete istituito questa figura istituzionale per voi che dovrebbe riferire su quello che sono le vicende in commissione ambiente i riscontri oggi sono che si cominciano a conoscere alcuni meccanismi quindi si stanno facendo alla fine due mesi che è lì questa ragazza però ha già incontrato alcuni europarlamentari ha incontrato l'Abriano che è la vicepresidente dell'intergruppo Caccia e Pesca ha partecipato ad alcuni incontri a un paio di convegni quello che noi adesso vorremmo implementare è anche una presenza magari mensile una volta al mese uno di noi va da su anche per assistere a determinati incontri e partecipare a determinati incontri che magari lei abbia organizzato quindi è tutto in divenire però sicuramente sappiamo tante cose che prima non abbiamo mai saputo compresa l'assenza di alcuni europarlamentari che ci avevano detto ci avrebbero dato una mano ma in due mesi mai visti grazie a tutti